Doraemon, ecco alcune delle tue frittelle preferite. No, non ti farò i compiti. Mi hai capito al volo. Con te ogni giorno è la stessa storia, adesso basta. Ma se non mi aiuti io non finirò in tempo e non potrò vedere la televisione. Non capisco perché hai sempre lo stesso problema. Non credi che sia colpa della tua pigrizia? E non pensi sia ora che tu prenda coscienza della tua responsabilità? Non puoi solo pretendere, devi anche dare, chiaro? Sì, forse sì. Ecco che cosa non va in te, sei pigro, sei pigro, sei lenco, sei lenco, sei lenco, sei pigro. Non devi perdere tempo, devi agire subito. Sì, ma io sono nato pigro. Eh sì, è questo il problema, è nella tua natura. Allora, devi bere questo. Comincerai a muoverti più in fretta perché questa è la medicina dei movimenti veloci, questa è la lenta, cioè l'opposto della veloce. Prendila veloce. Grazie, dopo. Adesso. Dopo. T'ho detto adesso. Io t'ho detto dopo. Lo dico per il tuo bene. Non voglio la medicina. Prendila. No, prendine prima un po' tu. D'accordo. No. No, che cosa? Dimmi. Non fai altro che dormire, non fai altro che dormire, devi fare i compiti. Gli hai già fatti, gli hai già fatti. Ehi, gli hai già fatti, li hai finiti, allora li hai finiti. Allora, allora. Oh, muoviti, muoviti, muoviti. Il tempo passa, il tempo passa. Allora, allora, allora. Gli hai fatti, gli hai fatti, gli hai fatti. Gli hai fatti. Ehi, non ti puoi fermare. Vado a farmi spiegare delle cose. Allora, fai in fretta, fai in fretta, fai in fretta. In fretta, eh, non ce la faccio più. Io voglio una vita tranquilla. Sei già qui, sei già qui. Sono ancora partita, ciao. Mi farà impazzire. Il campanello! Brigati, brigati, vieni con noi. Togliti le scarpe, saluta. Il te, il te, è molto gentile, molto gentile. Grazie, grazie, il te, il te, è molto gentile. Hai già mai dato, bevuto. Non ho ancora finito. Non ne posso più, non ne posso più. Torniamo a casa. Lasciami le pillole. Ti hanno incitato. Ti prego, prendi un'altra medicina per calmarti. Ti prego, prendi un'altra medicina per calmarti. Allora tu prenderai la medicina veloce. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Vedo, vedo, vedo. Non la trovo, non la trovo, non la trovo. Non la trovo, eccola. La medicina lenta. Ramone, il barattolo è questo qui. Dammela, dammela, dammela. Raffiaccala presto. La medicina lenta. Dammela, 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 dammela. Quando corro non riesco più a fermarmi. Aiutami, dammela. Cerca di raggiungermi, cerca di raggiungermi. Cosa stai facendo, cosa stai facendo? Corri, 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 corri. Così non va. Devo prendere quella veloce. Ma quale sarà? Che stupido che sono. Questa è la veloce, questa è la lenta. Si sarà così. Sono sbagliato. Veloce è quest'altra. Guglia, presto, presto, presto. La medicina lenta, la medicina lenta. Che strano vento, non capisco. Guglia è tornato, dov'è, dov'è, è tornato, Guglia è tornato, dov'è, dov'è? Non ancora, credo. Sono stanco, sono stanco, non ce la faccio più. Il mio corpo è sauto, se non piglio la medicina lenta, credo che morirò, morirò. Sì, sì, questa volta sento che morirò, non ce la faccio più. Secondo me questo passo è l'ideale per camminare. Ehi, tu, stai giocando? È una gara. Una gara, hai detto? Con una lumaca. Cosa? Ho perso, sei troppo veloce. Guglia. Dov'è, Guglia, dov'è? Va bene. Porta, dimmelo, dimmelo. Adesso te lo dico. Non importa, non importa, non importa. Io l'ho visto. Sono a casa. Eccomi. Che ci fai lì? Stai aspettando che qualcuno ti apra la porta? Devono essere buone quelle pastiglie nel barattolo. Le vorrei assaggiare. Vediamo un po'. A vederle così si direbbero gustose. Ehm, fermati, non prenderle. Voglio proprio provarle. Quella è una... Porta, parla più in fretta. Cosa vuoi dire? E' tardi. E' tardi. E' tardi. Non voglio correre. Non voglio correre. Perché corriamo? 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 Perché corriamo? Grazie a tutti.